Ciao, sono Anna e sono qui per presentarti il Green Bags Project. La nostra proposta si compone di tre elementi principali, la progettazione di spazi interni o esterni attraverso l'utilizzo di contenitori per piante brevettati per dare un tocco di verde ai tuoi ambienti di vita o di lavoro. Le Green Bags sono contenitori leggeri, resistenti, facili da spostare e divertenti da usare, realizzati artigianalmente con materiali e tecniche innovativi. Con le Green Bags puoi dare un tocco di verde ad anonimi uffici oppure ricreare un orto mobile sul terrazzino in città o ancora ricreare un giardino sul tetto di casa. Insomma, non importa che tu sia un interior designer, una casalinga, uno studente fuorisede oppure un manager, Green Bags Project in ogni caso può fare al caso tuo. Sostenici anche tu con Eppela, anche grazie al tuo contributo potremo implementare il nostro laboratorio creativo e lanciare una piattaforma online. Ti aspettiamo!